Io vengo da una famiglia che non è assolutamente nei cavalli, quindi già questo amore verso il cavallo c'era qualcosa dentro di me che andava oltre le radici familiari e poi sì, nel momento in cui sono salito a cavallo, diciamo che gli altri sport sono andati di lato Perfetto, grazie mille